Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Non si sente parlare di nient'altro che di questo ormai famosissimo coronavirus. E ci spaventa molto, ma in realtà ci spaventa qualsiasi cosa che non conosciamo realmente. E poi la paura ha a che fare con un abbassamento del sistema immunitario. E allora, invece di chiuderci in noi stessi e avere così tanta paura, cosa possiamo fare per migliorare le prestazioni del nostro sistema immunitario? Beh, sicuramente l'alimentazione, un'alimentazione sana, andrà a migliorare le performance del nostro sistema immunitario. Abbiamo visto molti studi riguardanti la vitamina D, molti studi riguardanti un sano stile di vita, quindi anche l'attività sportiva e la gestione dello stress. Ed è proprio per questo motivo che ho deciso di organizzare due eventi. Uno sarà mercoledì e l'altro giovedì, quindi si parla di domani e dopodomani a Roma, gratuiti per la popolazione. Lascerò nella descrizione del video i riferimenti per accedere ai due eventi gratuiti e chi si troverà distante o non vorrà partecipare per non entrare in contatto con tante persone, l'evento comunque sarà trasmesso nel mio canale YouTube. Vi aspetto domani e dopodomani alle ore 20 per parlare di come innalzare il nostro sistema immunitario. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo domani. Ciao! Grazie a tutti!